Questo è l'originale, la versione di Marco, di Andrea, di William, di Roberto, di Ottavio, di Mariana, di Fulvio, di Fabrizio, di Doris, di Dario, di Marco e di Fabio. Allora, se vogliamo fare un confronto che possa essere oggettivo sul lato della variazione cromatica, la cosa ideale è provare a vedere queste immagini separando il colore dalla luminosità. Quindi, una cosa che potremmo fare è imporre ogni immagine in modo colore per vedere il prima e il dopo. Dato che sono tante e non si possono cambiare i metodi di fusione una alla volta, modo un po' più originale per risolverlo è mettere l'originale sopra in modo luminosità e andarcela a vedere al contrario. Allora, la versione di Fabio la vediamo per ultima. Questa è la versione di Marco Livotto, questa è la versione di Andrea. Ecco, qui un po' si può vedere subito perché scelgo di farvi vedere queste immagini in modo colore. La differenza tra l'immagine di Marco e di Andrea è evidente, soprattutto qui nella parte dell'asino bianco. Questa è Marco e questa è Andrea. L'impressione che avrete probabilmente è che l'immagine di Andrea sia gialla. In realtà ci possiamo rendere conto di quanto influisce la luminosità su un'immagine perché quando il contrasto è aumentato in modo così efficace come ha fatto Andrea è più difficile rendersene conto. Però se la guardiamo confrontandola a quella di Marco, anche in zone come questa, la variazione di colori di Marco secondo me è decisamente preferibile. Ok, riattiviamo la luminosità dell'originale. Questo è William. Allora, il consiglio è, andiamo a vedere, meno 7, meno 10. Meno 7, meno 10 probabilmente, vedete, meno 7, meno 7. C'è un... troppo verde William. Però dopo vediamo come si poteva risolvere molto semplicemente. Questo è Roberto. Questo è Marco e questo è Roberto. Questo è Marco e questo è Roberto. Passiamo da 1,3 a 0,0 di Marco. Ancora... direi ancora Marco. Questo è Ottavio. È ancora gialla. Questa è Marianna. Marianna è un po' più conservativa, è meno satura, ma mi sembra che... Dopo proviamo ad aumentare un po' la saturazione e potrebbe andare bene. Questo è Fulvio, ancora gialla. Questo è Fabrizio, buona Fabrizio. Questo è Doris, è gialla. Questo è Dario, è gialla. Marco è gialla. E Fabrizio è abbastanza buona. Direi che sembra quasi identica a quella di Marco. Con l'unica differenza è che Fabrizio ha più verde nello sfondo e può essere una scelta accettabile. Rivediamole tutte senza la luminosità dell'originale, perché è importante anche in questo modo. Questo è Marco. Tra Andrea e Marco il contrasto... Mi piace il fatto che Andrea abbia scelto l'aumento dello sharpening a dispetto un po' del contrasto locale, come ha fatto Marco, perché penso che l'asino bianco un po' risalti ancora di più. Questa è la versione di William. Questa è la versione di Roberto. Questa è la versione di Ottavio. Ecco, vedete la differenza cromatica abbastanza evidente. Questa è la versione di Marianna. Troppo luminosa nella parte dell'asino e alcune parti del soggetto le è un po' perse. Questa è la versione di Fulvio. Questa è la versione di Fabrizio. Questa è la versione di Doris. Dario. Marco Iodato, che ha aumentato il dettaglio all'infinito, anche se forse è un po' buia. Però penso che abbia lo sharpening migliore di tutti. E questo è Fabio. Mi trovo da dover scegliere tra Fabio e Marco, ma sono assolutamente tutte e due molto valide. Mi piaceva solo farvi vedere un'ultima cosa con la versione di William. Lo porto in Lab. Quando abbiamo troppo verde, come in questo caso, in Lab, duplico. Scelgo solo... Questo ve lo faccio vedere più come esercizio per comprendere il funzionamento di Photoshop che come tecnica, per carità. Questo è il canale della A e questo è il canale della B. Dato che parliamo di verdi, a noi interessa andare a limitare il canale della A, ovviamente del livello copiato, in modo da fare un riempimento con il grigio al 50%, non in modalità normale, perché distruggerebbe tutto il canale della A e non avrebbe senso, ma in modalità schiarisci. Schiarisci perché vi ricordo che il verde nel canale della A è rappresentato da toni più scuri, per cui se facciamo schiarisci con il grigio al 50%, avremo da grigio, quindi valore 0, a toni positivi, che sono presenti comunque nell'immagine, ad esempio nella pelliccia dell'asino. Do OK. E quello che succede naturalmente è che non esistono più i verdi, come in questo modo. Allora posso a questo punto variare l'opacità, ma una cosa che ovviamente non ci interessa. Ma con un semplice blendif nel canale della A applicato a livello sottostante, dove l'immagine è molto verde, posso andare a dire fammi vedere l'immagine copiata che è sostanzialmente priva di verdi. Ecco, vedete qui la differenza. Guardate lo sfondo. OK. Creiamo una transizione sfumata in questo modo. OK. Magari riduciamo un po' l'opacità, 50%, prima e dopo. La genialità di uno strumento come questo è che questo è quello che abbiamo fatto in caso volessimo ridurre la brillantezza, definiamola empiricamente, dei verdi dello sfondo. Se io invece avessi voluto fare il contrario, cioè avessi voluto rimuovere questi toni di verde, vedete, dalla pelliccia dell'animale, avrei fatto esattamente il contrario, cioè avrei detto, che è la cosa che andava fatta in questa immagine, di andare a applicare il blendif in tutto quello che non è verde. Rimetto un secondo il livello al 100%, prima e dopo. Ok. Prima e dopo. E il blendif questa volta lo vado a fare sempre sul canale dell'A, sempre sul livello sottostante, però solo, ecco, recupero lo sfondo. Ok. In questo modo. Prima e dopo. Non so se riuscirete a vederlo, ma la differenza è abbastanza notevole. Passiamo da meno uno a, o meglio, passiamo da meno nove a meno uno. In questo video abbiamo anche accennato per la prima volta al pannello del PPV, del Picture Postcard Workflow di Demargulis, che è stato realizzato dalla grandissima Giuliana Abbiati insieme al CPT Channel Power Tools, che ho qui alla mia sinistra. Di tutti questi strumenti presenti ne parleremo nel corso del tempo, come anche del CPT. Per il momento avete già un altro studio di Highland che è sul sito che potete scaricare, è un'immagine semplice, ma le versioni che sono arrivate sono già abbastanza differenti, per cui probabilmente avremo diverse cose da dire anche lì. Nel prossimo video però dobbiamo cominciare a parlare un po' di quadricromia, perché l'immagine che presenteremo poi la settimana successiva sarà particolarmente complessa e avrà due ospiti però d'eccezione. Per oggi è tutto, ci vediamo prestissimo, un abbraccio, ciao.